Ciao amici, benvenuti in questo mio nuovo video sul mio canale di YouTube. Sono lungo il canale navigabile Cremona Pizzichettone. Sono all'interno del parco Adda Sud. E questa primavera, passando di qua in bicicletta, non c'erano ancora né l'erba alta, né la vegetazione, né le foglie e così. Mi sono imbattuto in un ceppo di rubigna tagliato un anno e mezzo fa, due anni fa circa, che ha fatto tre getti e mi sono intortato a fare una cosa un po' artistica, diciamo. Adesso vi faccio vedere. Questa è una rubigna, che in questo punto c'era il ceppo piccolino, 5-6 cm, ha fatto tre getti e mi sono messo lì con calma e gli ho fatto quattro giri di treccia, come le treccine che si fanno. E sfrutto questo social YouTube per lanciare un appello all'amministrazione del parco o all'amministrazione del canale navigabile, che quando passano col dicespugliatore, non tagliarmela. non so se andrà a buon fine questo video o cosa. Comunque la piantina è molto bella, si presenta bene. È una cosa selvatica, non so. Spero che qualcuno accolga questo mio appello. Niente, vi ringrazio per l'attenzione. Lascio il link del tipo di pianta, che è la rubigna, e le coordinate GPS di Google Maps nelle descrizioni del video. Grazie. Grazie.